buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale bene ragazzi è finito chiuso il calcio mercato alle 20 del primo di febbraio del 2024 allora analizziamo subito la situazione pisa cos'è successo la società niente come io avevo già detto niente assolutamente niente in entrata in entrata bonfanti che secondo me ragazzo ha del talento nelle gambe sicuramente abbiamo visto e l'ho detto fin da subito e poi abbiamo d'ormash d'ormash esterno bulgaro 22 anni non lo so ecco queste sono questi sono sono male gli acquisti del pisa sporting club per questa per questo questo mercato di riparazione di gennaio è sufficiente io direi forse no oppure ma anche no ci salveremo può essere può essere può essere se il predestinato ma si mette nella testa di far giocare la squadra in determinato modo e li fai giocare determinati giocatori poi domani andremo a analizzare per meglio con matteo quello che solo calcio mercato pisa diciamo così calcio mercato generale perché pisa diciamo perdere abbiamo abbiamo già detto insomma due acquisti basta finì chiuso e poi nel senso poi andremo a dare una lettura quella che sarà che potrà essere la partita contro il cosenza quello facciamo e via via così a me hanno detto non telefonato ho sentito insomma fate la sto facendo il video cosa ne pensi cosa ne pensi ma faccio il video ve lo dico subito cosa ne pensi al di là che poi ci sono ci sono dei tifosi che sono su facebook mi fa piacere che vengono a guardare quello che mi fa magari meno piacere che poi ognuno la vede a modo suo io sono qua e dico ci metto la faccia dico le cose come stanno io credo di essere sempre stato obiettivo e più e nemmeno è obiettivo nelle cose poi poi che poi si voglia dire è tutto a posto va bene io posso anche dire tutto ma non mi pare già non mi sembra una cosa corretta non mi pare non mi sembra una cosa corretta secondo me noi in questa situazione dovevamo sicuramente rinforzare rinforzare la difesa con un centrale difensivo come già detto e ribadito e ripetuto e sicuramente ci voleva un'altra punta c'è un altro attaccante dietro campistino perché secondo me a centrocampo ci siamo e poi forse un esterno perché da alessandro e ci voleva un esterno ma un esterno si chiamasse sterno questo questa la situazione secondo me un paio di colpi o tre andavano forse messa a segno il lecco ha chiuso per inglese cioè tutte quelle che sono giù si sono rinforzati per arpi salò sono rinforzati tutti noi no non abbiamo bisogno di niente non abbiamo bisogno di nessuno soltanto solo uscite vignato una giure eschi sono state solo uscite vabbè va bene uscito che è riuscite ma qualcosa in entrata ci voleva ma qualcosa di consistente non ho comprato il mondo a colori gli altri strefezza ma non sto qua elencare perché ripeto a me non mi piace andare a vedere insomma colpi degli aceri elogiare colpi gli anni come non sta nelle mie corde sicuramente mi fa male ma non sta nelle mie corde però insomma uno dice quello che insomma domani faremo una live con matteo quindi andremo analizzare quello che è stato il calcio mercato globale perché quello del pisa in tre minuti abbiamo risolto e poi vedremo insomma come quello che sarà disponibile disponibile insomma tema analizzare la partita col cosenza c'è o quello che potrà essere la partita del cosenza quindi io mi raccomando domani tutti i presenti alla live questo è un video che io ribadisco no quello che avevo detto nel video precedente che qui il calcio mercato si sarebbe chiuso solo esclusivamente con l'acquisto di bonfanti e poi c'è stato sudormaci ma va bene questo è il discorso secondo me è troppo poco per come siamo messi noi da motore grosse che più di un tempo non ti fa da un moreo che è una scheggia impazzita insomma ci voleva senz'altro ad alessandro si è fatto un infortunato visto poi magari steve se si salta una partita poi magari cioè quindi ci voleva senz'altro un diciamo così un tassello come punto centrale come difensore centrale scusatemi e sicuramente un tassello ci voleva in attacco un altro tassello senz'altro e poi un esterno insomma per per ovviare a determinate situazioni che magari via via si vengono a creare perché durante durante il cammino si vengono si possono creare determinate situazioni questo è quanto io poi non ho da dire nulla altro perché mercato del pisa è questo i colpi di mercato del pisa è stato bonfanti basta null'altro nulla più niente più e meno male che insomma fino adesso è un acquisto azzeccato meno male dopo dopo tante tanti diciamo così scommesse siamo riusciti a però poca roba no riusciremo a salvarci io questa domanda vi faccio a voi e vorrei una risposta obiettiva e una risposta diciamo così la più la più come posso dire la più serena ecco siamo così una risposta si obiettivo ecco una risposta obiettiva e serena proprio sul discorso salvezza un commento a a questa questa cosa dopo aver visto questo calcio mercato io vi chiedo questo riusciremo a salvarci questa domanda questa è la domanda che affligge la maggior parte di noi io credo quindi niente scrivete e poi mi raccomando domani presenti alla live perché così avete modo abbiamo modo di confrontarci tutti perché questo è un canale di confronto ok canale di confronto con con i tifosi niente più niente di me perché a me piace così confrontarmi ecco come uno la pensa e come non avere io io questo discorso il confronto secondo me è il meglio no top cosa che dovrebbe fare la tifoseria con la società insomma il confronto il dialogo perché quando c'è confronto quando c'è dialogo magari uno vabbè ma non non so qua fa il morale per l'amor di dio chiuso chiuso è solo un punto di vista e ragazzi sono un punto di vista vabbè detto questo io la chiudo mi aspetto domani e commentate commentate perché a questo punto commentate io se vi è piaciuto questo video pollici su mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa domani